E' stato firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Sant'Arsenio, guidato dal Sindaco Donato Pica, e Confesercenti Vallo Didiano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino. Obiettivo del protocollo d'intesa è quello di favorire gli investimenti sul territorio comunale di Sant'Arsenio e supportare le attività presenti. Un altro passo avanti importante nel processo di valorizzazione delle risorse del nostro territorio attraverso il protocollo d'intesa che questa mattina abbiamo sottoscritto con Confesercenti della provincia di Salerno. Un partner sicuramente importante che opera in settori strategici e che diventerà sicuramente un punto di riferimento non soltanto per l'amministrazione comunale ma anche e soprattutto per le aziende che operano in quei settori specifici. A che cosa deve essere utile questo protocollo d'intesa? Soprattutto a dare supporto a tutte le attività commerciali e artigianali del territorio comunale di Sant'Arsenio. Noi siamo presenti fisicamente ormai da oltre dieci anni nel Vallo Didiano con uno sportello a Sala Consilina ma vogliamo intensificare i rapporti con i vari comuni anche con l'avvento del distretto commerciale. Cercare di ascoltare i nostri commercianti, i nostri artigiani, capire quali sono le loro esigenze e se riusciamo a trovare delle soluzioni perché come dico sempre non troveremo mai una soluzione universale ma tante piccole opportunità possono aiutare a vivere meglio l'attività di impresa.